Musica Benvenuti a tutti da Punto Steam Punto a questo nuovo video Si sono bannato a vita, si per la vicenda di Alucard01 e si non mi sbaneranno mai più Per specifiche riguardo farò poi un altro video più avanti Il tema di questo video però è un altro Voglio parlarvi del raduno a Bini che terremo a Catania dal 30 aprile al 4 maggio Infatti ho prenotato un volo per queste date Inizialmente dovevo alloggiare nella dimora di Gwen Valentine Ma a suo padre ha abbassato il limite di utenza room e non potevamo entrarci tutti quanti Di conseguenza abbiamo deciso di prenderci una casetta in affitto Ad alloggiare i fissi nella casa saremo io, Gwen, Michele e Lavinia Hashtag abbo grande fratello, hashtag abbo travel, è mai chiaro stavolta vinco io Ma ci saranno anche altri abbini di Catania come la mia segretaria Lili Quella che ho, anzi, SIG avevo prima del ban nell'abbo cuore E tanti altri Ci saranno anche Mchiara 2.3 e Lucca 997 Incontreremo anche il grande Piru Più altri ospiti a sorpresa che non vi dico appunto per non rovinarvela Ehi ma stavo per scordarmi del mitico Antonino Paninazzo Colui che gira col fermaglio d'oro per abbo.it per nascondere la sua pelata Il grandissimo, si fa per dire, Skylets! Per chiunque fosse interessato ad unirsi, comunque ragazzi, vi lascio in descrizione il gruppo Whatsapp Quindi c'è il link, premete e entrate E anche il gruppo Telegram, quindi stessa cosa, link, premete e entrate dell'evento Inoltre eccovi adesso due video dove alcuni di questi abbin ci salutano e vi invitano a venire e a raggiungerci Va benissimo anche per un solo giorno, non dovete per forza stare tutto il tempo, insomma Se vi serve un alloggio nei limiti delle possibilità abbiamo due letti liberi, quindi fateci sapere Ciao a tutti ragazzi, da Inki, Lili, Gwen Vi volevamo informare che a maggio saremo con .stin. qui a Catania Venite numerosi perché c'è Stin, quindi è importante, sì, sì Ci vediamo Ciao ragazzi Ciao Ciao Stop Ciao ragazzi, io sono M Chiara 2.3 e lui è? Lucca Navarave 7 Volevamo informarvi che i primi di maggio ci sarà un incontro con .stin. a Catania Con special guest Gwen Valentine e il mitico numero 5 E' certo, Michele Versace Di Michele Di Michele non si sa ancora Quindi entrate ora nel gruppo Whatsapp o Telegram e scriveteci Solo persone interessate al venire, seriamente Vi lascio i video Stin, ci sarà Sara a quest'evento? No Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e condividilo sui social Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale Infine ecco qua i social sui quali potete seguirmi Trovate il loro link qua sotto in descrizione Grazie della visione